Ha lottato per tre settimane nella terapia intensiva dell'ospedale Sant'Antonio di Padova, ma non ce l'ha fatta. È morto Javad Akhtar, 54 anni, il cittadino pakistano che la notte dell'8 agosto in via Iappelli era caduto a terra sbattendo violentemente la testa al termine di una lite con un connazionale ora indagato in stato di libertà. Le accuse nei suoi confronti passano da lesioni colpose a omicidio preterintenzionale nel fascicolo aperto dalla procura di Padova che ha già affidato l'incarico per l'autopsia. Mancano pochi minuti alla mezzanotte quando proprio la vittima avrebbe ingaggiato una violenta lite che dalle urla era subito passata alle mani con un connazionale in quella che è sembrata una resa dei conti finita con il 54enne caduto a terra e la disperata corsa in ospedale degli operatori del suo 118. La polizia intervenuta sul posto aveva acquisito subito le immagini delle telecamere dell'area e il cellulare della vittima.